La regione si è appena insediata, evidentemente qua c'è un discorso che deduco a essere in corso da molto tempo, ne ho letto qualcosa, effettivamente non posso entrare in questa dialettica che si è creata fra voi perché ne conosco troppo pochi passaggi. Mi rendo conto che c'è una situazione di esasperazione, d'altra parte sapete meglio di me che i consultori sono un tema in tutta Italia, nel Lazio e in particolare nelle zone provinciali e periferiche della città di Roma, particolarmente pesante e gravoso. La regione con la giunta Zingaretti si è appena insediata, stiamo iniziando a mettere mano a questa cosa e è chiaro che la situazione di questo consultorio a me è parsa, io sono in Commissione Sanità e Politiche Sociali, è parsa la punta dell'iceberg la più eclatante di una situazione che non può più andare avanti. Ma scusa se si interrompo, Ardia conta 40.000, 45.000 abitanti, la legge dice che ci deve essere una struttura ogni 20.000, noi ne dovremmo avere due? Ce ne abbiamo mezzo a metà Coppomezia, funziona mezza giornata? Brava, 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 perché questo la regione lo devo sapere. Io mi prendo l'impegno di partire da qui e di farlo muovendo le leve in coordinamento col comune con le competenze della regione, che è la competenza regina.